no si ok stavamo ancora decidendo cosa mettere la stessa mappa di prima ragazzi ora io mi sorelle volevo sono impiazzato di tutte le sconfitte che ho subito con i crizi io voglio vendicarmi si morbe ha creato una classe che ho chiamato classe aratrice di criz che vuole fare più schifo di primo non penso proprio sì non lo mai se non funziona posso sempre di legare sul mitragliatore non dovete la classe distruttrice allora perché dovrebbe fallire non lasciamo spazi vuoti nei compagni ragazzi stiamo portando una recensione di smite che faccio cosa che non mi fate si è e basta parla dobbiamo coprirci un lato come c'è un periodo e tu stai parlando per il cazzo come puoi sempre io ho vinto io che adesso provo a questo qua è ancora in questo qua ancora in sperimentazione impostazioni no caibot ci sono ancora questa qua ancora in sperimentazione non posso essere sicuro dove cazzo al telecomando non ho voglia di alzarmi quanto fai schifo io non mi alzo guarda tu mi alzi il volume pure bestemmio vabbè alza il volume ah no sta qua non è a cosa automatico dai cazzo alza il volume perché hai paura di non sentire i nemici alza il volume è paura di non sentire è là in fondo il telecomando sei una merda sei mi ha costretto ad alzarmi schifoso o finalmente merdo poi dice merdo al posto di merda quindi e dai togli ti vengo a prendere qua 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 non sono abituato così non sono abituato no 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 che peccato è morto dovrei essere felice per questo non credo ma lo sono lo stesso morto non so chi sei ah non sei tu peccato ah ti stanno cercando il mio cuore è troppo sacco per voi che cazzo è però cavolo qua ci sta il selettore di fuoco in quest'arma non parallelo a subresa con il piano no no o forsepo è giallo né el tr recruit universe merda inscrito 5 tv pop approach vola o sé team sono sei più e' questa mancato ora sei sono sega uno fanno sei sono 6 sono 6 sono 6 senti due peccati scegliati lungo la schiena allora dove cazzo si ma quello l'aveva mi metti di smogazzo quella è la stessa volta che i botte mi hanno salvato anche se era invisibile oh 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 scappi dal tuo pericolo scappi dal tuo pericolo eh si vabbè come cazzo va bene anche in italyese faccio schifo in italyese che cazzo voleva salvarmi ma io l'ho ricavato ma uno in fianco l'ho ricavato me proprio quello si chiama spieghi benissimo a volte no dai no dai mi piace avevo quasi mi hanno mi hanno ho sentito una porta di cazzo mi stavo grattando il naso si scuse 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 guarda qui c'ho una mia supermai garci cosa dice nub quando non vince è colpa di non lo so colpa di bkitz si ah con la minigun cazzo con la minigun con la minigun ce la fa anche un muratore un muratore cos'hai con un muratore non lo so hanno mai giocato a black ops un muratore e mi viste un muratore giocato a black ops che merda cosa si va vero è successo lo stavo trollando vuoi tutto sto qua che lancia fiamme in mano e mi ammazza ma fa anche uno che vuoi lanciar fiamme l'unico gioco in cui lancia fiamme è buono ah a parte fallout e forse non lo so basta e forse pokemon qui c'è stata una sparatoia vedete che è pieno di proiettili che non penso fossero parte del level design muori merda qui c'è uno che muore nooo nooo e mi sparano le spalle fiamme tutti contro tutti bene 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 mediocremente bene sto oh mio dio quest'angolino qui lo chiamerò l'angolino della vittoria eh porca troia dovrebbe essere qua lo stranuso dovrebbe oh mio dio l'ho ucciso attraverso la parete come i fieri ucciso uno vieni qua il tuo culo appartiene a me ora eh buongiorgio buongiorgio grazie non sei ancora morto oh scusami scivolata è più di schioso perché ti stanno mirando al centro di te se tu mi scivolate ti beccano ti prendono la testa lì c'era la mia mina e dunque? e dunque eeeh ti ammazzavo io oh vedo un pira con la minigun che non so usarla ha già messato due persone oh dio oh dio due persone con la minigun cazzo ti danno il premio Nobel per questo vero? ma cosa abbiamo qui? un Cerberus ogni tentativo di cosa ho accanto a me? un noob oh 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 chi è che ti ha ucciso? oh cazzo un cazzo mi sono spawnato davanti allo spawner del Cerberus porca puzza oh ragazzi qui la forza di gravità proprio non esiste ragazzi esatto schianto gravitazionale attivo adesso posso cercare oh mio dio fighissimo uccidere persone quando sei sulle pareti vieni qua ooooh ci va bene però come i fieri non ti va neanche ma perchè con un buio non gli sciotti più? più me li sciottavi ah dipende dalla vita che avevano probabilmente probabilmente sai com'è insomma in questo gioco in questo gioco c'è la vita sai com'è ah ah ancora peggio di prima aspetta chi ha fatto l'ultimo a chi scusa? io il Cerberus coglione io pirda si guarda che sono io si ti ha anche preso però eh non mi ha colpito sennò sarebbe diventato rosso lo schermo si pirla dammi una prova che lo schermo sarebbe diventato rosso se non si vede sulla si che si vede su anche il finale no si sarebbe sentito rinforzo no oh oh ho vinto io vuoi fare un'altra? no subito un'altra che tempo c'è ok dici ma che palle ma non ce la facciamo a farne due in una ma si dai quanto dura un match? 3 minuti? non lo so io la congestione del tempo se ne va a puttane qua ok era 10 minuti di cosa? 10 minuti un match? si wow mi interrompi e ne facciamo subito un'altra che gli attacchi assieme eeeh eeeh il buongiorgio a tutti lo fai te la prossima volta ok vabbè vabbè ragazzi 2-0 per MrL su Mortal Kombat su aaaaah aaaaah son distrutto no non sei distrutto è che i tuoi peccati ti aumentano ancora ok però cambiamo la mappa eh si si ti cambiamo la mappa il mio telecomando si sta appunticando la scarpa chiudo il canale sai che lo posso fare? da davanti al computer che è sul canale magicamente dai finiamo quel video e ci vediamo al prossimo ciao a tutti